Andrea! Stai tranquillo Ruggero! Buono Andrea, buono, vai! Ruggero vai sul fianco e sgrima, e sgrima, e sgrima! Metti la gamba dentro, metti la gamba dentro! Attenzione, Stai trovando una cappellina, la sgrima, e sgrima, e sgrima, vai Andrea! Vai, 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 vai su quattro stampe, vai su quattro stampe! Dai che è tuo, Andrea! Nolli! Di qua, girati verso di lui, prendi la gamba! Dai che è il tuo, Andrea, così, dai! Dai, 30 a 1, Andrea! Ruggero, metti i piedi a terra, poi fonte e lancialo via! Sì, dai, dai, dai! Metti il ginocchio, sì, destro dentro, metti il ginocchio destro dentro e rompi quella presa! 4 minuti a metto, Andrea! Così, vai! Ah, però c'è tanto tempo! Bravo, Andrea, vai! Bravo, scappetti a quattro zampe, Ruggero, mettiti a quattro zampe, prendi la gamba! Non lasciare la gamba, Ruggero, non lasciarla! Gira diverso di lui! Dai, 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 dai! Bravo, Ruggero! Io già vedo... Spacca la gamba! Ha guardato, sì... Ah, infatti è stato bravo! Sì, è stato bravo! Sì, è stato bravo! Mezzo chilo è andata a Londra, in realtà! Mezzo chilo è andata a Londra! Ok, vai su un po' tre, dai! No, non si chiude la metto a patta! Non la chiude! Ma si può dare la cifra e parte il centro, Andrea! Vai su un po' tre! Finito! Vai su un po' tre! Bravo, Andre! Prendi il pantalone, prendi il pantalone con la mano sinistra! Bravo! Bravo! Adesso spingi con la gamba e tira la mano! Tira la mano sinistra e spingi con la gamba, Ruggero! Devi raffarlo! Sì! Sì! Devi tirare con la mano, Ruggero! Oh, scusa! Dai, 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 dai! Gira, gira, sali! Non è stato stato, Andrea! Così, bravo, bravo! Calmo, Andrea, calmo! Due minuti e mezzo! Bravo, Ricchi! Grazie! Bravo! Grande, Ricchi! Bravo! Ruggero! Ruggero, due minuti e mezzo! Ruggero, due minuti e mezzo! Leva con la mano da lì! Leva il braccio da dentro! Ok! Leva il braccio da sotto l'ascella! Ripare postura, Ruggero! Ripare postura, Ruggero! Bravo! Fai postura e passa la guardia! C'hai due minuti e sei sotto di sei punti, eh! Veloce! Prendi una manica... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ruggero, fai postura! Mettigli una mano sul gomito! Mettigli il gomito sulla gola! Bravo! Dai, bravo! Adesso devi andare via da lì, Ruggero, un minuto e quaranta! Devi alzarti, Ruggero! Prendi la manica e alto! Grazie! Bravo! Dai! Veloce, Ruggero! Dai, su, Ruggero, veloce! Un minuto e dieci! Vieni! 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 Bravo! Bravo! Cos'è Andrea? Ruggero, muoviti! Devi ritrovare! Un minuto, Ruggero! Un minuto, Ruggero! Dai che non c'era da più, non c'era! Dai, Ruggero! Un minuto, Andrea! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Dai, Ruggero! Un minuto, Ruggero! A tutti in piedi e vai via! Ruggero! A tutti i nostri amici! Correa, Silva, Juan Pablo! Ruiz, veneno! Guar Cabinet, Andrea! Feliz Natale! Buon anno! Helo, Ruggero! su, 10, 10 Andrè, dai, tieni, 4, 3, 2, 1, bravo, 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 bravo.